Siamo in compagnia di Ferranda Gigliotti, la promotrice di un'associazione animalista l'ultima volta di cui ancora il nome non conosciamo, o meglio c'è stato un accenno ultimamente sul gruppo Facebook. Vogliamo chiederle, visto che l'abbiamo lasciata ad agosto, come si è evoluta la situazione di questo gruppo, di questa nuova associazione, se ci sono state appunto degli sviluppi? Beh intanto abbiamo cominciato a scegliere il nome, sono state avanzate più proposte e abbiamo scelto la casa di Argo per sottolineare appunto la fedeltà del cane, la storia di Argo ce lo insegna, per sottolineare come appunto sarà una casa e non sarà un canile. Cioè il nostro obiettivo è quello di non creare un nuovo canile, un luogo di prigionia per i cani, ma di creare un luogo dove i cani possono in qualche modo essere sistemati provvisoriamente come una casa e per poi essere rimessi nel territorio attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza con cani di quartiere o anche attraverso le adozioni. L'associazione, come al solito, è in fase di costituzione, non siamo ancora costituiti perché l'impegno che abbiamo assunto con il sindaco di Nocella Terinese, Rino Rocca, che ha assunto poi degli impegni con noi per lavorare insieme, trovare una soluzione su questo problema, è che faremo dei passi insieme e ovviamente la formalizzazione dell'associazione ci sarà nel momento in cui effettivamente siamo pronti per essere operativi. Intanto stiamo cercando di ottenere ulteriori consensi, ulteriori adesioni, ulteriori persone e volontari che si avvicinano a noi. Oggi abbiamo avuto una riunione con i responsabili dell'ASP di La Mezzaterme con i quali abbiamo concordato una prima fase. Ovviamente noi abbiamo un programma molto più lungo, più vasto, più a lungo periodo, ma la fase più importante che adesso seguiremo e poi magari ci rivediamo anche con Liberi per aggiornarvi sulle ulteriori fasi, è che provvederemo insieme ai volontari, alla Comune, alla Polizia Ecozoofile, attraverso la disponibilità dell'ASP, del Servizio Veterinario, a una sorta di censimento dei cani, sia randaggi che padronali, e attraverso la sensibilizzazione a una microcippatura, una microcippatura favorevole, nel senso economicamente più vantaggiosa, perché si potrà fare con soltanto 15 più 5 euro, quindi 20 euro come microcippatura del cane, il costo minimo, perché come si sa la microcippatura è obbligatoria, che consentirà, una volta eseguito questo tipo di lavoro, di individuare i cani padronali dai cani randaggi, e quindi stabilire poi come intervenire sugli uni e sugli altri per la realizzazione della seconda fase, che sarà quella della sterilizzazione. Ovvio che il Comune e l'Associazione, per quanto riguarda la gestione volontaria di questa struttura, che sarà, spero, realizzata prestissimo, è quella di creare appunto anche un luogo di ricovero degli animali, e subito nel mese di settembre, entro la fine di questo mese, quindi, saremo pronti, almeno abbiamo l'entusiasmo per essere pronti, a realizzare una campagna di sensibilizzazione con le scuole, con i bambini, per non solo l'individuazione dei cani padronali che non sono microcippate, non sono sterilizzate o che magari sono stati abbandonati, ma attraverso appunto l'individuazione anche di quei cani randaggi, che i randaggi non sono perché sono già collocati in contesti urbani e sono curati da cittadini, sempre da volontari, ma che devono avere una loro identità e devono essere, da un punto di vista sanitario, trattati per non essere pericolosi per nessuno, perché i cani non sono pericolosi, diventano pericolosi quando vengono maltrattati o quando vengono lasciati da soli e quindi diventano e si trasformano in branco, poi ci si difende. Se ci sono aggressioni nei confronti dei cani, molti cani si spaventano quando vedono gli uomini, molti altri invece alla violenza rispondono con altra violenza, quindi c'è un'attività di tipo educativo che va fatto, di tipo culturale, c'è anche un'attività di tipo amministrativo che deve essere sviluppata. Speriamo di farcela, intanto noi ce la voglia ce l'abbiamo, c'è il bisogno perché c'è una situazione drammatica in tutto il territorio e quindi Nocera non è diverso dagli altri comuni, però a Nocera si sta muovendo qualcosa e quindi io ringrazio Rino Rocca per la disponibilità che sta donando a questo gruppo di volontari e spero che insieme faremo almeno questo passaggio, un passaggio a nord-ovest particolare, cioè attraverso la risoluzione o comunque l'impegno a risolvere un problema di civiltà. All'interno di questa struttura io so che Rino ha già manifestato di voler creare dei servizi aggiuntivi, che sono servizi che guardano a una civiltà nord-europea ed è quella alla quale noi dobbiamo tendere per quanto riguarda il rispetto dei diritti civili, dei diritti delle persone, degli esseri viventi del territorio e su quelli noi ci vorremmo sintonizzare. Fernanda, ci dai solo riferimenti in chiusura dove possono trovarvi la pagina Facebook? La pagina Facebook c'è già il gruppo costituito e appunto oggi si chiama Itaca, la Casa di Argo, perché eravamo incerti sul nome. Da stasera verrà modificato e si chiama la Casa di Argo. I riferimenti siamo noi, siamo tutti contattabili su Facebook, ma all'interno del territorio credo che siamo già abbastanza conosciuti per essere contattati. Nei prossimi giorni faremo anche una squadra appunto tra i volontari più disponibile o comunque disponibile a intervenire anche su Facebook, non solo nel territorio, per dare informazioni e quant'altro. La rete è importante, ci sta aiutando molto, ma poi anche operativamente spero che nel territorio siamo più operativi di quanto invece non siamo nella rete. Ringraziamo Fernanda De Gigliotti, vi diamo appuntamento quindi per la terza fase, visto che questa era la seconda, prossimamente fine settembre. Grazie. Fine settembre, inizio ottobre, spero di avere qualche notizia aggiuntiva. Grazie Fernanda. Grazie a te. Ciao.